Siete qui per manifestare le vostre perplessità, i vostri timori, quali sono in sintesi? I timori sono tantissimi, per iniziare noi agricoltori, noi confinanti non siamo stati convocati al Comune, quindi abbiamo ricevuto questo brutto pacco regalo direttamente impacchettato senza essere a conoscenza della costruzione e della realizzazione del nuovo ghetto. Per tale motivo noi ci stiamo ribellando proprio perché ci sono una serie di problematiche su cui non possiamo assolutamente evitare. Il rischio di contaminazione biologica delle falde acquifere è elevato perché sappiamo benissimo che queste persone possono tranquillamente interrare rifiuti, il rischio di incenti è elevatissimo, quindi la produzione di iossine che incide negativamente sulla produzione biologica di tutta la zona, di tutti i terreni. Altre problematiche riguardano la presenza di queste persone che comunque noi le possiamo tenere a bata nel loro appezzamento. Queste persone possono tranquillamente girovagare nei nostri campi, razziare i nostri raccolti, rubare tutto ciò che trovano e per non parlare poi delle altre problematiche legate alla sicurezza pubblica. Questo sito è un sito che dista dal paese all'incirca intorno ai 4 km, sprovvisto di illuminazione del pubblico lungo la strada comunale, per cui il rischio di investire, soprattutto durante le ore notturne, tutte queste persone è elevatissimo. Per non parlare poi della svalutazione, del depreciamento dei nostri terreni, in una posizione del genere si parla di una svalutazione che oscilla tra il 75 e l'80%, quindi tutto ciò che hanno fatto i nostri genitori, sacrifici, non servirà più a nulla con una situazione del genere. Innanzitutto è un campo, non è un ghetto, quindi è già da precisare un campo temporaneo dove verranno alloggiati 93 unità, ci saranno dei container, servizi igienici, in più anche coloro che abiteranno all'interno del campo devono pagare anche una quota legale per far fronte alle spese, ci saranno luci, ci saranno delle cucine a induzione, ci saranno condizionatori, quindi non si userà legna, non si userà fuochi, questo per scongiurare pericoli, si sarà in massima sicurezza. Dal punto di vista di rassicurare anche le persone che hanno terreni al di fuori del campo le loro preoccupazioni, il prefetto ci ha assicurato anche il controllo del territorio attraverso il presidio delle forze dell'ordine che monitoreranno sempre la situazione all'esterno del campo, più noi ci siamo impegnati anche a mettere telecamere, a far mettere delle telecamere e sì a far mettere anche delle guardie giurate, guardie campestri che possono anche fornire un ulteriore supporto a tutto questo, al controllo del territorio. Si passa da un ghetto illegale dove vige l'illegalità a un campo legale dando una sistemazione dignitosa.